A voce alta, per la legalità. Questo lo slogan scelto per la manifestazione commemorativa per le vittime innocenti della mafia, svoltasi stamattina a bel passo nel 27esimo anniversario della strage di Capaci. Un corteo per ricordare il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro, ma anche a tutti coloro che nel corso degli anni sono state vittime della mafia. L'evento ha avuto inizio stamattina. Dalle 9 in poi, i cittadini, dopo essersi riuniti in diverse piazze, Borsellino, Municipio e Duomo, si sono incamminati per formare un'unica marcia in nome della legalità, giunta alla villa comunale dove è stato allestito un palco e proiettato un cortometraggio sulla strage di Capaci. Un momento toccante dove affare da cornice sono state le rappresentanze delle scuole elementari, medie e dei licei. La scuola elementare Madre Teresa di Calcutta, la scuola media Nino Martoglio, l'istituto comprensivo Giovanni Paolo II Piano Tavola, l'istituto Itis Galileo Ferraris ed il liceo scientifico Antonino Russo Giusti. Numerosi gli interventi da parte dell'amministrazione comunale e dal sindaco Daniele Motta, che ha ringraziato in prima persona l'assessore Graziella Manitta e dal Fioplatania per l'entusiasmo e l'impegno profuso per la realizzazione di questo progetto. Presente anche la baby giunta con i relativi sindaci che sono stati scelti a capo di ogni scuola presente, in modo da sensibilizzare anche i più piccoli che un domani rappresenteranno la comunità. Diversi cartelloni e gli striscioni che sono stati realizzati dai ragazzi, molti dei quali hanno dedicato questo giorno alla memoria di Don Pino Puglisi. Si è commemorata anche la figura di Paolo Borsellino, Peppino Impastato, Giuseppe Fava, Rosario Livatino e di tanti altri che hanno perso la vita combattendo la piovra. Come diceva Giovanni Falcone, la mafia è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha avuto un inizio ed avrà una fine.